Antonio Madina Schiff, numero 87, Marco Colombo, la società e la finale Arcorose. La terza. Molto molto bene. E adesso tutto il gruppo che arriva. Attendiamo come sempre l'ufficialità dei nostri giudici e dei commissari. E mi confondono anche il terzo, Matteo Corini. Perfetto. Marco Colombo, oggi è una fuga partita da lontano. Scrivete un po' la tua vittoria nella seconda gara di oggi. Sono partito al terzo giro, sono riuscito ad andare regolare e sono arrivato. La dedica di oggi chi va? Questa vittoria la dedico a tutta la mia famiglia, ai miei compagni e alla mia squadra che mi sostiene sempre. Grazie. Grazie a tutti.